LULU ASMR RELAX Ciao a tutti amici Come state? Dunque oggi voglio farvi un video dove sfoglio questo catalogo Vedete un catalogo molto particolare che mi è arrivato tramite posta perché l'ho richiesto su internet È un catalogo come vi ho detto particolare perché tratta sia di abbigliamento che di accessori in stile gotico rock e quindi vedete che bellino questo segno con la manina che fa le corna La marca è Hemp Ovviamente non mi pagano per fare pubblicità però ve lo faccio giusto per passare un po' di tempo insieme Dunque il catalogo è composto in questo modo C'è una parte con abbigliamento e accessori uomo e un'altra parte con abbigliamento e accessori donna Alcune cose le salterò per non dilungarmi troppo Comunque partiamo subito Allora Questo catalogo mi è arrivato nel periodo di Natale E infatti poi non ho avuto più tempo di farvi questo video che lo sto facendo adesso quindi tante cose che ci sono sul tema natalizio le salterò Allora Allora Come potete vedere si comincia con la parte uomo ragazzo e questa è tutta roba natalizia che io salto perché tanto ormai Natale è passato quindi ci interessa ben poco e vado subito qui Allora qui ci sono dei giubbotti molto molto belli a me piace questo genere di abbigliamento Dunque come vi dicevo abbiamo i grandi classici giacca invernale delle tue brand preferite perfette per affrontare anche le giornate più fredde Molto belle con marchio ACDC Molto bello questo giubbotto con la stampa dietro Questo nero con l'interno rosso sempre marca ACDC Metallica Allora vediamo qui ci sono altri giubbotti di pelle vediamo poi i prezzi che non vi ho ancora detto questo per esempio cerco di farlo vedere più da vicino viene i 259 euro ecco i prezzi sono diciamo in base alle possibilità che poi ognuno ha un po' secondo il mio parere un po' altini però comunque molto coerenti con la qualità del prodotto io conosco questa marca perché tempo fa mi sono stati fatti dei regali proprio di abbigliamento di questa marca e io amo qua abbiamo altri giubbotti per esempio questo abbastanza semplice 149 euro poi abbiamo questo qui 149 euro sempre con altri disegni ok kiss andiamo avanti perché è un catalogo anche molto molto grande alcune cose come vi ho detto le salterò qui come vedete abbiamo altri giubbotti da uomo da ragazzo sempre più o meno sullo stesso genere qui invece passiamo alle felbe sempre marca i cdc questa nera con la stampa viola molto bella hanno delle particolarità hanno questo colletto grande con la cerniera sul davanti questa è un verde fluo qui abbiamo altre felpe rosse e nere nere insomma i colori bene o male sono sempre gli stessi bordeaux grigio cerco di farvele vedere un po' più da vicino vediamo allora i prezzi delle felpe più o meno sono intorno ai 54 euro vedete qui ci sono le foto davanti e dietro in modo che chi guarda il catalogo possa vedere anche la parte dietro che di solito in una foto normale non si vede è un catalogo fatto molto molto bene vedete ogni felpa al davanti e al dietro più o meno i prezzi sono questi queste qui più semplici vengono 39 qui abbiamo delle magliette a manica corta che costano 24 euro invece queste 19 e queste 17 19,99 scusate 17,99 qui abbiamo anche un accappatoio molto molto particolare che adesso vi faccio vedere un po' da vicino vedete ha il cappuccio scusate il cappuccio con le corna ed è bianco e nero qui c'è il cappuccio per farvi vedere come quando è abbassato il cappuccio è alzato questo accappatoio viene 54,99 molto strano vediamo qualcos'altro qui sono sempre felpe magliette a manica corta anche qui magliettine molto carine 24 euro soliti giubbocche andiamo avanti qua sono tutte magliette a maniche corte con delle stampe che poi uno sceglie un laser proprio gusto queste sono con delle croci qui abbiamo un testio messicano abbiamo anche roba da bambino però lo salterei perché è un genere che sui bambini a me non piace sinceramente poi qui abbiamo da donna magliettine a manica corta 34,99 filpina 24,99 c'è un giubbotto sia davanti che dietro 149 verde militare con la scritta sempre i sì di sì questo pantalone penso sia sportivo rosso e nero questa felpa questa mi piace abbastanza grigia rossa e bianca questo deve essere un pigiamino la felpa viene 39,99 il pantalone 24,99 invece il pigiamino completo 34,99 abbiamo anche delle pantofoline qui siamo alla parte femminile vediamo un po' qui abbiamo una mantella un giubbotto molto carino 149 euro felpe sempre 49,99 leggings grigi e rossi scarpe le scarpe non mi piacciono sinceramente anche se costano insomma 49,99 non poco questo vestitino stile anni 50 magliettine felpe queste sono maglia manica lunga queste sono felpe la maglia manica lunga viene 29,99 le magliettine a manica corta scusate 39,99 le felpe 49,99 davanti dietro qui abbiamo speciale musica qui c'è ancora un po' di roba come potete vedere natalizia ok andiamo avanti allora qui abbiamo dei pigiami molto molto simpatici innanzitutto qua abbiamo queste magliette Mickey the true original pippo paperino topolino qui cuoco Mickey mouse queste questo pigiavo è bellissimo cioè sia in versione col pantaloncino corto sia col pantalone lungo questo completino viene 34,99 ve lo faccio vedere da vicino se riesco sono bellissimi questi mi piacciono un sacco poi c'è anche questo con questo pupazzo qui abbiamo tre paia di boxer 24,99 poi andiamo avanti i pupazzi del Muppet Show che io adoro dove c'è scritto all school viene 17,99 la maglietta anche questa molto bella in bianco e nero diciamo che ci sono cose che solitamente non troviamo nei negozi soliti qui abbiamo uno stile Maleficent della Disney vedete ve le faccio vedere da vicino da donna le felpe vengono 44,99 questa felpa col cappuccio con le corna è stupenda il vestitino molto bello anche qui c'è l'accappatoio con le corna di Maleficent il portachiavi anche poi qui invece abbiamo tutto in stile Famiglia Adams vi faccio vedere questo cappottone lungo grigio molto costile gotico questo il vestitino di mercoledì non so se ve lo ricordate amici stupendo non lo indosserei mai però mi piace molto l'idea che ci sia in giro un vestitino di mercoledì che era la figlia di Morticia e Gomez se vi ricordate qui abbiamo una felpa grigia abbastanza semplice con una bara dietro queste anche questa è la magliettina di mercoledì molto molto carine più o meno i prezzi sono 149 questo il vestitino viene 50 euro più o meno 44,99 qui abbiamo tutta la saga Star Wars hit vediamo un po' qui abbiamo cose molto molto particolari guardate che strano questo vestito 79,90 beh io non lo indosserei mai Marvel ah qui c'è una cosa che a me piace tantissimo è Harry Potter guardate che bello questo cappotto da donna qua c'è il dietro sotto scende a punta molto molto bello scuro 149,99 poi vediamo un po' comunque abbiamo un altro cappotto molto particolare tipo Zarina russa con cappuccio dietro molto bello vediamo un po' qui ancora Harry Potter guardate questo vestitino 49,99 ma chi è che lo indosserebbe quest'altro vestitino qui poi spero riusciate a vedere bene nonostante la luce che arriva da destra qui abbiamo delle felpe 54,99 qui abbiamo altre felpe stile sempre Harry Potter 59,99 questo cardigan qui molto carino 39,99 mi sa che farò questo video in due parti perché sono ancora all'inizio del catalogo quindi magari farò solo una parte di video oggi e girerò un altro video per il resto che manca qui sempre Harry Potter abbiamo questo vestitino stile scozzese il pigiama sempre che riprende lo stile di Harry Potter l'accappatoio molto bello l'accappatoio 49,99 poi qui Supernatural Doctor Who Stranger Things non so se sentite il mio cane che russa dietro di me sul divano fateci caso American Horror Story spero riusciate a vedere Alice che bello questo cappottino qui è bellissimo 99 euro guardate com'è è tipo in panno con la parte che contorna il cappuccio in pelo bianco ovviamente finto pelo e anche qui nelle maniche molto da principessa del viaggio questa felpa è stupenda che mi piace tantissimo poi Disney Princess gli aristocanti Lion King Lilo e Stitch di qua molto belli anche questi se dovesse interessarvi il catalogo EMP dovete richiederlo su internet c'è un sito apposta voi cliccate catalogo EMP su Google e vi dà il sito dove poter comunque richiederlo e vi arriverà tramite posta devo dirvi che ne vale veramente la pena Mickey Mouse qua abbiamo le fattine Tinkerbell The Nightmare Before Christmas belle anche queste questa felpa mi piace tantissimo anche questa guardate da vicino costa 59,99 questa è grigia scura con il colletto con questa fantasia invece questa è tutta con la fantasia il colletto nero molto molto belle particolari c'è anche il pantalone però il pantalone non mi fa impazzire sinceramente Willy the Pooh qui e qui Monster Ego qui siamo sempre sul Natale andiamo avanti qui abbiamo degli accessori The Lord of the Rings abbiamo qua due anelli un ciondolo questo viene 118 euro del Signore degli Anelli abbiamo questi due anelli qua questo viene 89,99 e questo 89,99 anche lui allora poi abbiamo questo ciondolo qui questo chi conosce Harry Potter sa che simboli sono questo viene 14,99 questo 79,99 questo poi abbiamo gli orecchini il braccialetto e addirittura l'orologio questo orologio qua viene 27,99 qui abbiamo gli orologi The Lion King Harry Potter sempre vari accessori abbiamo lo zainetto vi faccio vedere un po' più da vicino lo zainetto questa borsetta vari giochi astucci addirittura qua abbiamo il coprepiumino con il cuscino abbinato le tazze qua abbiamo diverse tazze dei calici che abbiamo di pupazzetti accessori fan copriletti coordinati e per ora il video termina qui metto un segno sulla pagina come vi ho appena detto vi farò un altro video su questo catalogo perché come potete vedere sono più o meno alla metà l'altra metà ve la faccio in un altro video ok amici io spero tantissimo che vi siate rilassati e continuate a seguirmi sempre un abbraccio a tutti ciao